Gypsy Rose è uscita di prigione alla fine del 2023 e soprattutto il mondo del web è impazzito. La sua storia è davvero particolare e viene ricordata come uno dei peggiori casi di controllo e abuso, che dopo anni di bugie e manipolazioni contorte è finito in maniera tragica. Ragazzi buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi finalmente parliamo di Gypsy Rose Blanchard. Avevo fatto un TikTok tipo all'inizio di gennaio e tutti, tutti su TikTok mi hanno detto di farci un video su YouTube. Effettivamente ci sono molti dettagli che con un video di TikTok di 3 minuti non si possono spiegare, quindi eccomi qui. Sono sicuro che la maggior parte di voi già conosce questa storia o comunque ne ha sentito parlare almeno una volta. In ogni caso, nonostante sia una storia così tanto conosciuta, ci sono dei dettagli e dei retroscena che non tutti conoscono e magari molto spesso vengono tralasciati. Oggi quindi ho fatto del mio meglio per mettere in piedi una versione che sia sensata, completa e ricca anche di questi particolari che secondo me aggiungono molto. Vi giuro non è stato facile, c'è molta confusione su questo caso, tantissimi articoli spiegano le cose a metà, non so per quale motivo. Comunque spero di aver reso giustizia alla storia, di aver messo insieme tutti i pezzi in modo corretto e detto questo, cominciamo subito con il file di oggi. Il 14 giugno 2015 alcune persone di Springfield, nel Missouri, aprono Facebook e si trovano davanti un post molto preoccupante. È stato pubblicato dal profilo di Didi Blanchard, una donna molto conosciuta e apprezzata da quelle parti. Sua figlia, infatti, Gypsy Rose, era gravemente malata da praticamente tutta la vita. Per cui Didi era vista come una sorta di eroina, una mamma modello che aveva a cuore il benessere di sua figlia e faceva di tutto per farla star bene, al meglio delle sue possibilità. Quindi, quando le persone quel 14 giugno 2015 aprono Facebook e vedono quel post, rimangono a dir poco scioccate. Era un semplice aggiornamento di stato, composto da sole quattro parole. That bitch is dead. Quella stronza è morta. Gli utenti iniziano subito a commentare preoccupati, si chiedono cosa cavolo volessero dire quelle parole. A chi si riferiva? Forse a sua figlia Gypsy? E perché l'ha chiamata stronza? Da quello che sapevano quelle persone Didi amava sua figlia, non l'avrebbe mai chiamata in quel modo. Quindi, dopo un altro commento decisamente sospetto e macabro, sempre proveniente dal profilo di Didi, le persone si allarmano sul serio e avvisano la polizia locale. Lo sceriffo della contea di Green, nel Missouri, si precipita subito nella loro abitazione. Entra in casa, ma viene avvolto da un silenzio totale, quasi inquietante. Avanzando nota che nel corridoio c'è la sedia a rotelle di Gypsy, ma di lei non c'è nessuna traccia. Continua quindi ad esplorare fino ad arrivare nella camera da letto. E lì, in una pozza di sangue, scopre il corpo di Didi Blanchard. Prima di parlare di ciò che è avvenuto dopo, dobbiamo fare un piccolo passo indietro per capire effettivamente come sono andate le cose. Innanzitutto vorrei parlarvi a dovere di Didi Blanchard. Purtroppo vi dico già che sul web non si possono trovare tantissime informazioni sul suo passato e sul contesto sociale in cui è cresciuta. La maggior parte delle cose che conosciamo risalgono dopo la nascita di Gypsy, ma vediamo comunque di farci un'idea. Didi nasce come Claudine Peter a Chuck Bay, in Louisiana, il 3 maggio del 67. Cresce con la sua famiglia nella vicina Golden Meadow ed è una dei cinque figli di Claude Anthony Peter Sr. ed Emma Lois Giscler. Come vi dicevo non sappiamo molto altro, ma una cosa che mi ha colpito molto è che in futuro i suoi parenti racconteranno di ricordare che da giovane Didi aveva l'abitudine di derubare la sua stessa famiglia, cosa che ipotizzavano fosse una forma di ritorsione quando le cose non andavano bene, magari litigavano e quindi lei per ripicca li derubava. Tuttavia in un modo o nell'altro finisce per trovare lavoro come assistente infermiera. E questo sostanzialmente è tutto ciò che sappiamo sul passato di Didi, o almeno sulla sua vita prima della nascita di sua figlia. A 24 anni infatti rimane incinta di Rod Blanchard, un ragazzo che all'epoca aveva solo 17 anni. I due chiamano la figlia Gypsy Rose perché a Didi piace il nome Gypsy e Rod è un fan dei Guns N'Roses, molto semplicemente. Tuttavia poco prima della sua nascita, nel luglio del 1991, la coppia si separa perché a quanto pare Rod si rende conto di essersi sposato per le ragioni sbagliate. Ma decide comunque di essere un padre presente, rimanendo vicino a sua figlia. E fine. Non conosciamo altri dettagli. So che a voi piace il gossip, ma in questo caso non posso accontentarvi. A soli tre mesi dalla nascita di Gypsy, Didi nota che la piccola, durante la notte, spesso fa fatica a respirare regolarmente. Per cui, si convince presto che Gypsy soffra di apnea notturna. Previa di questo inizia a portarla in ospedale, ma i test effettuati sulla bambina sembrano non rilevare alcun problema del genere. Nonostante questo, Didi continua a preoccuparsi e a credere che qualcosa in sua figlia non vada. Molto in fretta comincia a notare anche altri sintomi di altre patologie, motivo per cui la porta più volte in ospedale a fare ulteriori test e esami. Fin dalla sua nascita, in sostanza, Didi è convinta che sua figlia sia molto malata e soffra di una vasta gamma di problemi di salute. Ma non finisce qui perché più passa il tempo e più i problemi di Gypsy sembrano aumentare, sia di quantità che di gravità. Rod, quindi, suo padre, non sapendo più come gestire questa bimba con così tanti problemi, decide di allontanarsi da Didi, lasciandola sola a badare a Gypsy. Da questo momento la sua condizione sarebbe peggiorata a vista d'occhio. Ogni giorno sembrava che qualche nuova malattia colpisse la piccola Gypsy e sua madre era disperata per questo. Per farvi capire la gravità della situazione parliamo di un ritardo mentale, di epilessia, di problemi alla gola, all'esofago e allo stomaco. Ovviamente tutte queste condizioni sarebbero insorte in maniera graduale nel corso dell'infanzia di Gypsy, non tutte insieme. Però ecco, sicuramente si tratta di una situazione molto difficile da affrontare. Oltre a tutto questo, Gypsy, all'età di 7 o 8 anni, era in moto con suo nonno quando vennero improvvisamente coinvolti in un piccolo incidente. A seguito della caduta, la piccola subì un abrasione al ginocchio, per cui dovette rimanere sulla sedia a rotelle per un breve periodo. Tuttavia, anche dopo la guarigione, sua madre si convinse che Gypsy non avrebbe mai più potuto utilizzare le sue gambe normalmente. Da questo momento, infatti, cominciò a credere che la piccola soffrisse di distrofia muscolare, una rara malattia ereditaria che col tempo compromette la struttura dei muscoli, portando chi ne ha affetto a perdere gradualmente le normali funzioni motorie. Per questo motivo, Didi cominciò a dire a tutti che sua figlia soffrisse anche di questa ulteriore malattia. Agli occhi delle persone vicine a loro, Gypsy era a tutti gli effetti una bambina sfortunata, nata con tali patologie che col tempo non facevano altro che peggiorare. Una situazione veramente tristissima. Gypsy Rose, però, nonostante tutti i problemi di salute, sembrava vivere un'infanzia tutto sommato felice. Conoscenti e amici cercavano in ogni modo di aiutarle, insieme ai concittadini e ovviamente agli enti di beneficenza. Queste sono strutture che si impegnano affinché le persone con patologie, sia fisiche che mentali, possano vivere a pieno e fare nuove esperienze. Ed è proprio anche grazie a questi enti di beneficenza che Gypsy potè partecipare a svariati eventi e conoscere addirittura persone famose. Per esempio, sul web si possono trovare facilmente delle sue foto insieme a Elijah Hood, che per intenderci è l'attore che interpreta Frodo nel Signore degli Anelli, oppure con Sin Astin, altro attore che ha recitato nel Signore degli Anelli, ma anche nei Goonies e in Stranger Things, e anche con altri attori e cantanti. Nel 2001, quando Didi affermava che Gypsy avesse 8 anni, in realtà ne aveva 10, venne nominata regina onoraria della Crew of Mid-City, una parata per bambini tenutasi durante il carnevale di New Orleans, chiamato anche Mardi Gras. Per quanto riguarda la sua istruzione, invece, la situazione fu senz'altro più problematica. La bimba infatti smise di andare a scuola dopo la seconda elementare perché Didi decise di istruirla in casa, ma lei nonostante tutto è riuscita ad imparare a leggere da sola anche grazie ai libri di Harry Potter. Intanto il padre di Gypsy si risposò e Didi decise di trasferirsi dal suo di padre, dal nono di Gypsy, dove viveva anche la sua matrigna. Poco tempo dopo il loro arrivo, però, le cose cominciarono a diventare strane. La matrigna di Didi, infatti, cominciò improvvisamente a manifestare degli strani sintomi, come tosse, nausea, vomito, dolori addominali, diarrea, bruciore e prurito della pelle, via dicendo anche altre cose. Il che portò subito all'ipotesi dell'insurrezione di una presunta malattia cronica che si presentò all'apparenza senza un motivo. Molto strano, no? Didi intanto continuava a nutrire un atteggiamento super protettivo nei confronti della figlia, quasi in maniera ossessiva. In quello stesso periodo venne arrestata per dei reati minori, tra cui avere messo a segni scoperti. Ma una volta tornata a casa, suo padre e la sua matrigna iniziarono a fare le domande. A loro sembrava troppo strano il modo in cui trattava sua figlia. Cominciarono proprio a sospettare che qualcosa non andasse. Ma oltre a questo, ai due, sembrava anche strano che la matrigna avesse iniziato a stare male proprio dopo il loro arrivo. Cominciarono a sospettare che la presunta malattia cronica della donna potesse in qualche modo essere causata da un avvelenamento. Forse, proprio da parte di Didi. Sentendosi sopraffatta da queste accuse, Didi decide di scappare con sua figlia e andare a vivere vicino a New Orleans, in una cittadina chiamata Slidell. E guarda caso, poco dopo, la salute della sua matrigna tornò alla normalità. A Slidell, le due vanno a vivere in delle case popolari e riescono praticamente a malapena a sopravvivere, solo grazie agli assegni di mantenimento di Rod e all'assistenza pubblica, che ogni mese dava dei soldi a Didi, sempre a causa delle condizioni mediche di Gypsy. Anche in questo periodo vanno a fare visite da vari specialisti, principalmente al Tulane Medical Center e al Children's Hospital di New Orleans. Didi sembra costantemente alla ricerca di cure per le rare malattie di Gypsy, che col tempo sono aumentate, includendo anche nuovi problemi all'udito e alla vista. Ma nonostante le continue visite e i continui cambi e sviluppi nelle terapie, la condizione di Gypsy semplicemente non migliorava. A tra le patologie ci fu anche la novità di un cancro. Insomma, una situazione veramente assurda, molto, molto difficile. Ad un certo punto però accadde una cosa particolare. I medici, per accertarsi della condizione della piccola, le effettuarono una biopsia muscolare. Ma quando arrivarono i risultati, rimasero perplessi, perché dalle analisi non risultava alcun segno di distrofia muscolare. Tuttavia Didi insistette dicendo che era chiaro che Gypsy ne soffrisse e, in qualche modo, che sinceramente non sono riuscito a trovare da nessuna parte, riuscì a farle prescrivere un trattamento. Cioè, non so se mi sono spiegato. Nonostante fosse il risultato che sua figlia non soffriva di distrofia muscolare, lei è comunque riuscita ad ottenere delle prescrizioni mediche. In aggiunta a ciò, riuscì anche a farsi prescrivere dei farmaci anticonvulsionanti, dicendo ai medici che Gypsy aveva spesso le convulsioni. Tenete a mente che Didi sapeva di cosa parlava. Se ricordate, aveva lavorato come assistente infermiera, per cui aveva una certa dimestichezza con patologie, farmaci, termini tecnici e via dicendo. Ma sapeva anche quali patologie causavano quali sintomi. Quindi era molto precisa, sapeva descrivere alla perfezione la condizione di sua figlia ai medici. Comunque, durante questo periodo Gypsy venne sottoposta a diversi interventi chirurgici. E Didi la portava regolarmente al pronto soccorso anche per disturbi minori. Poco più tardi però, un'altra tragedia si sarebbe abbattuta sulle loro vite. Quando l'uragano Katrina devastò la zona nell'agosto del 2005, mamma e figlia si ritrovarono costrette a lasciare l'appartamento che era letteralmente in rovina. Andarono a stare in un rifugio a Covington, che era stato appositamente allestito per persone con bisogni speciali. Didi affermerà poi che la cartella clinica di Gypsy, compreso il suo certificato di nascita, erano andati distrutti a causa dell'uragano. E per via di tutto ciò, non c'era più un modo vero e proprio per fare un check sulla situazione di Gypsy. Poco più avanti, per far tornare la situazione alla normalità, tra virgolette, un medico suggerì a Didi di trasferirsi di nuovo in Missouri. E sotto il suo consiglio fece proprio così. All'inizio Didi e Gypsy andarono a vivere in una casa in affitto ad Aurora, sempre nel Missouri. Mentre erano lì, nel 2007, Gypsy venne nominata Bambina dell'Anno dalla Oley Foundation. Un'organizzazione che informa, sostiene e aiuta le persone che sono costrette ad alimentarsi per via endovenosa o con un sondino. E Gypsy infatti veniva alimentata tramite un sondino, sempre per via di uno dei suoi problemi. Nel 2008 però finalmente la loro condizione cominciò a migliorare. L'organizzazione chiamata Habitat for Humanity infatti costruì loro un'intera casa a nord di Springfield, nel Missouri. Questa casa era dotata di tutti i comfort, come una vaschidro massaggio, e le cose necessarie per Gypsy, come una rampa per accedere all'entrata con la sedia di rotelle in tutta facilità. La storia di una madre single con una figlia gravemente disabile, costrette a fuggire dalla devastazione dell'uragano Katrina, suscitò grande emozione e solidarietà. E per questo la comunità si impegnò tantissimo ad aiutarle, anche con molti contributi di beneficenza. Nonostante la casa nuova però, la ragazza aveva anche bisogno di spostarsi ogni tanto, sempre per via delle visite specialistiche che non sempre si potevano fare vicino casa a Springfield. E anche in questo caso le due ricevettero una mano. Soggiornarono occasionalmente nelle case Ronald McDonald durante le visite mediche, e Gypsy in alcune interviste future definirà questi alloggi come la sua seconda casa. Comunque ricevettero anche voli gratuiti per vedere i medici al Children's Mercy Hospital di Kansas City, viaggi gratuiti a Walt Disney World e pass per il backstage dei concerti di Miranda Lambert. Rod inoltre, il padre di Gypsy, continuava a pagare mensilmente 1200 dollari per il mantenimento della figlia. Ma le mandava anche regali, e a volte la sentiva al telefono. Gypsy in futuro racconterà che durante una di queste chiamate, nel giorno del suo diciottesimo compleanno, sua madre Didi disse a suo padre di non menzionare l'età reale della ragazza, perché all'epoca lei pensava di avere 14 anni, ma ne aveva 18. Tutto molto strano, no? Pensate che Rod e la sua nuova moglie avevano provato più volte ad andare a Springfield per far visita a Gypsy, ma per una serie di ragioni Didi alla fine cambiava sempre programma. La donna in realtà diceva ai suoi vicini di Springfield che il padre di Gypsy era un violento alcolizzato e tossicodipendente, che non era mai riuscito ad accettare i problemi di salute di sua figlia e non aveva mai inviato loro i soldi del mantenimento. Quindi, ovvio che non voleva venisse a trovarle. Quelle erano bugie. E Didi, purtroppo, non mentiva solo su questo. Passiamo quindi alle bugie. Allora, la donna rasava regolarmente la testa di Gypsy per ricordare l'aspetto di un paziente sottoposto a chemioterapia. Terapia alla quale però Gypsy non veniva sottoposta. Diceva sua figlia che poiché i suoi farmaci alla fine le avrebbero comunque fatto cadere i capelli, tanto valeva raderli in anticipo. Gypsy quindi indossava spesso parrucche o cappelli per coprire la sua calvizie. Quando uscivano di casa, Didi portava quasi sempre con sé una bambola di ossigeno e un tubo di alimentazione. Grazie alle future dichiarazioni di Gypsy, sappiamo che Didi si avvaleva anche dell'abuso fisico per controllarla. In presenza di altre persone, infatti, le teneva sempre la mano. E quando la ragazza diceva qualcosa che suggeriva che non fosse veramente malata o che fosse al di là delle sue presunte capacità mentali, sua madre le stringeva forte la mano, come per dirle di smetterla di parlare o di cambiare argomento. Poi, quando erano da sole, la picchiava. Col passare degli anni, gli interventi medici sulla ragazza aumentarono. Didi le fece trattare le ghiandole salivari con il Botox, e poi gliene fece estrarre qualcuna per tenere sotto controllo il suo problema di salivazione eccessiva. Ma secondo quanto racconterà Gypsy, era sua madre ad indurre questa salivazione. Prima delle visite mediche, le somministrava un anestetico topico per farle intorpidire le gengive, così avrebbe salivato e sbavato ovunque, e agli occhi dei medici ci sarebbe stato un evidente problema da trattare. Comunque, la rimozione delle ghiandole salivari, unita agli effetti collaterali dei farmaci antiepilettici che le venivano somministrati, le causarono un sacco di carie, al punto che la maggior parte dei suoi denti anteriori vennero estratti e sostituiti da un ponte. Le vennero anche impiantati dei tubi nelle orecchie per controllare la miriade di presunte infezioni. Tuttavia, queste bugie non sarebbero durate per sempre. Bernardo Flasterstein, un neurologo pediatrico che visitò Gypsy a Springfield, si insospettì riguardo la sua diagnosi di distrofia muscolare. Ordinò quindi una risonanza magnetica e degli esami del sangue, che, una volta effettuati, non riscontrarono nessuna anomalia. Disse così a Didi che Gypsy non soffriva di distrofia muscolare, Ma la donna, anziché essere contenta, come si aspettava il medico, si infuriò e lo accusò di essere un ciarlatano. A quel punto il dottor Bernardo decise di contattare il medico di base di Didi, non di Gypsy, e gli disse di avere il sospetto che la donna potesse soffrire della sindrome di Munchausen per procura. Questa sindrome è una rara malattia psichiatrica e comportamentale che spinge chi ne soffre a provocare o inventare sintomi e malattie nelle persone che dipendono dalle loro cure. Il tutto ha solo scopo di attirare attenzione e aiuti. Didi comunque riuscì in qualche modo ad avere accesso agli appunti di Flasterstein e, successivamente, si mise di portare sua figlia da lui. Il medico, che grazie agli esami aveva scoperto che a Gypsy in realtà non serviva la sede a rotelle, decise comunque di non denunciare Didi. Sentì anche il medico di base di Gypsy, grazie al quale scoprì che anche la biopsia muscolare non aveva rilevato tracce di distrofia, il che smentiva anche le affermazioni di Didi, secondo cui le cartelle cliniche di Gypsy si erano distrutte a causa dell'uragano. Non era vero. Nonostante tutto, il medico pensò che le autorità non gli avrebbero comunque creduto. Nel 2009, un anonimo chiamò la polizia e disse che Didi usava nomi e date di nascita falsi sia per lei che per Gypsy e suggerisce anche che la ragazza non fosse così malata come si credeva. A seguito della chiamata, ovviamente, degli agenti si presentarono da Didi per verificare che fosse tutto in regola, ma lei trovò un modo molto astuto per difendersi. Disse che era vero, aveva cambiato i loro dati anagrafici, ma solo per proteggersi dal suo ex marito violento, il padre di Gypsy. Gli agenti ci credettero e constatarono che la ragazza sembrasse senza dubbio disabile, così. Il caso venne chiuso. Una cosa assolutamente degna di nota che voglio dirvi è che in quegli anni Gypsy stava lentamente sviluppando una vera e propria dipendenza da farmaci. Dopo l'operazione che le rimosse le ghiandole salivari, i medici le prescrissero degli antidolorifici per il dolore, ma quando i farmaci finirono, lei continuava ad avere male. Quindi, sapendo che sua madre aveva una ricetta per il vicodin, un antidolorifico piaceo, iniziò a farne uso di nascosto, non consapevole che l'avrebbe portata a una forte dipendenza. Poi la sua tolleranza al farmaco aumentò, fino a farle prendere sempre più pillole. Sua madre iniziò a insospettirsi vista la continua spuefazione di Gypsy, ma alla fine la ragazza se la cavò solo con qualche bugia. A quel punto agli occhi di Gypsy era chiaro che qualcosa non andasse. Lei sapeva di poter camminare e sapeva che alcune delle patologie, non tutte, anzi solo una minima parte, non fossero reali. Ma non poteva fare assolutamente nulla, non poteva neanche capire appieno ciò che le stava succedendo. Tuttavia, già a partire dal 2011, cercò di provare dei modi per scappare. Era molto confusa, non aveva un vero e proprio piano, ma solo una vaga idea in mente. Dovete sapere che Gypsy amava andare ad eventi e convegni di fantascienza e fantasy. Spesso lì indossava un costume e si sentiva più inclusa, si sentiva parte di una comunità che non la giudicava diversamente solo perché era in sede a rotelle. Ecco, durante uno di questi eventi nel 2011, sua madre la trovò in una stanza d'albergo con un uomo che aveva conosciuto online. Colpo di scena incredibile, davvero. Ma Didi si infuriò. Mostrò all'uomo i documenti falsi dei Gypsy, che riportavano che fosse minorenne, anche se in realtà aveva 21 anni. E lo minacciò di denunciarlo per aver addescato un minore. Gypsy ricorda che dopo questo incidente, non saprei come chiamarlo, sua madre distrusse il suo computer con un martello e minacciò di fare lo stesso con le sue dita, semmai avesse tentato di scappare di nuovo. Poi le mise un guinsaglio e la manettò a letto per due settimane. Ma purtroppo non è tutto. Le disse anche che aveva presentato dei documenti alla polizia, che sostenevano che Gypsy era mentalmente incompetente. E ciò portò alla ragazza a credere che se avesse tentato di rivolgersi all'autorità per chiedere aiuto, magari raccontando tutto, nessuno le avrebbe creduto. Perché per loro era mentalmente incompetente, sicuramente si stava inventando tutto. Ecco, questa è una tecnica di manipolazione veramente subdola. Pensateci. Comunque, poco dopo essere stata liberata dal letto, Gypsy tentò subito di scappare di nuovo. Questa volta però, facendo una cosa ben più grave, che, vista con la consapevolezza di ciò che sarebbe accaduto più avanti, fa sicuramente preoccupare. In sostanza, la ragazza sparò dieci colpi di pistola a sua madre. Peccato però che era una pistola a pallini. Gypsy tuttavia racconterà che inizialmente, credeva fosse una pistola vera. Nel febbraio del 2012, le due vennero beccate a rubare oggetti artigianali, per un valore di circa 20 dollari, in un centro commerciale. Avevano nascosto gli oggetti nella sedia a rotelle, sotto le gambe della ragazza. Didi però disse alla polizia, che non aveva intenzione di rubare. Che era stato un errore. Si erano semplicemente dimenticate di rimettere a posto i prodotti. Quindi non successe nulla. Intanto Gypsy, nonostante le punizioni e le rimproverate di sua madre, continuava ad utilizzare internet di nascosto quando Didi andava a dormire. E durante una di queste sessioni online segrete, in un sito di incontri per cristiani single, conobbe un ragazzo di nome Nicholas Godgeon. Questo ragazzo aveva un anno in più di Gypsy e viveva a Big Bend, in Wisconsin, a più di 900 chilometri da Springfield. Godgeon però non era proprio un ragazzo a posto, passatemi il termine. Infatti aveva precedenti penali per atti osceni, e anche un disturbo dissociativo dell'identità. Questo disturbo può comportare l'incapacità di ricordare eventi quotidiani, oppure importanti informazioni personali, e anche eventi traumatici o stressanti. Le persone che ne soffrono talvolta sperimentano improvvise discontinuità intrusive nel linguaggio, nell'affettività e nel comportamento. In aggiunta a ciò, alle elementari, gli era stato diagnosticato il disturbo dello spettro autistico, che più avanti nella sua vita sarebbe stato confermato e definito di livello 2, che sarebbe la fascia media dello spettro in termini di gravità di sintomi e di necessità di supporto. Nonostante tutto, i due cominciano a messaggiare online, e si trovano subito molto bene. Si piacciono, hanno molte cose in comune, e si sentono ogni volta che possono. La possibilità di vedersi però, almeno all'inizio, risulta molto lontana. Anche perché Didi non avrebbe mai permesso questo tipo di relazione. Gypsy non poteva usare il computer. Comunque dovete anche sapere che Gypsy in realtà aveva una sorta di amica, che si definiva la sua sorella maggiore. Questa ragazza era molto legata a Gypsy, e si definiva la sua sorella maggiore perché, come tutti, pensava che lei fosse più piccola. Era una sua vicina di casa, e si chiamava Alia Woodmansey. Ecco, nel 2014, quando Alia aveva 23 anni, e Gypsy pure, più o meno, anche se si pensava che ne avesse 19, le confidò che lei e God John avevano parlato di una fuga, e avevano persino scelto dei nomi per i loro potenziali figli. Alia però, sentendo queste parole, cercò di farle cambiare idea. Convinta che Gypsy fosse ancora troppo giovane, pensò che probabilmente God John fosse solo un predatore sessuale, che la stava in qualche modo manipolando. Tuttavia considerava questi piani della ragazza solo come delle fantasie, dei castelli fatti per aria. Non si sarebbe mai aspettata che effettivamente sarebbe successo qualcosa tra i due. E nonostante gli sforzi di Didi per impedire a sua figlia di usare internet, lei riuscì comunque a continuare a sentirsi sia con Nicolas che con Alia, con la quale si sentiva su web, anche se erano vicini di casa. L'anno successivo, poi, organizzò di nascosto un incontro tra Nicolas God John e sua madre, a Springfield. Il piano era quello di far finta di incontrarsi casualmente, mentre lei e Didi erano al cinema. E da questo incontro sarebbe cominciata una relazione tra i due, apparentemente in modo spontaneo. Gypsy dovette organizzare tutto ciò perché non poteva dire a sua madre il vero modo in cui aveva conosciuto Nicolas, ma aveva una voglia di vederlo troppo grande. Quindi, come da accordo, nel marzo del 2015, i due si incontrarono per la prima volta casualmente al cinema di Springfield, dove Gypsy e Didi erano andati a vedere Cenerentola. Secondo le dichiarazioni di lui, nei bandi del cinema ebbero un rapporto sessuale, mentre, secondo le dichiarazioni di lei, provarono a fare roba senza successo. Vabbè, comunque, come potevamo aspettarci, Didi non approvava assolutamente questa relazione, neanche se si erano conosciuti così nella realtà. A dirla tutta, non approvava alcun tipo di relazione di sua figlia, neanche quelle di amicizia. Infatti Gypsy e la sua amica Leah non si vedevano mai da sole, potevano parlare solo su internet tranquille. O come già avrete capito, da anni ormai tutto questo controllo e queste manipolazioni a Gypsy avevano cominciato a stare strette. Tenete a mente che a questo punto aveva 24 anni. Ci credo che dopo una vita passata così, convinta di essere gravemente malata e impossibilitata a fare amicizie, a una certa non ne puoi più. Ecco Gypsy, però, per provare ad uscire da questa situazione, prese un approccio decisamente drastico. Continuò a sentirsi con Nicholas Godgeon nonostante le regole di sua madre. E nel corso dei mesi, i due inizierono a sviluppare il loro piano per uccidere Didi. Godgeon tornò a Springfield il 9 giugno del 2015. Riuscì a nascondersi in casa loro mentre le due erano ad un appuntamento. Poi, dopo essere tornati a casa, Gypsy aspettò che la mamma si addormentasse per dare il via al piano. Così, Godgeon pugnalò Didi 17 volte. Gypsy, intanto, era chiuso in bagno che si copriva le orecchie per non sentire sua madre urlare. La ragazza, in un'intervista, affermerà che durante l'omicidio, Didi le ha chiesto aiuto numerose volte, ma lei non aveva la forza di reagire. Dopo questa drastica e orribile serie di eventi, i due ragazzi hanno rapporti sessuali nella stanza di Gypsy. Ma lei, in futuro, lo accuserà di averla violentata, dicendo che il rapporto non era consensuale. In seguito ci saranno delle rivelazioni scioccanti, secondo cui Godgeon l'avrebbe in effetti violentata, perché Gypsy non gli aveva permesso di violentare Didi prima dell'omicidio. Atto su cui aveva precedentemente fantasticato in chat con Gypsy. Cioè, in sostanza, dato che non gli ha fatto stuprare sua madre prima di ucciderla, ha stuprato lei. Non ho molte parole. In questo caso si fa sempre più contorto. Fatto sta che dopo tutto ciò, la coppia decise di prendere 4.000 dollari in contanti che Didi aveva in casa. Erano gli assegni di mantenimento di Rod. Fuggirono poi in un motel fuori Springfield, dove rimasero per alcuni giorni mentre pianificavano il loro prossimo spostamento. Durante quel periodo vennero ripresi dalle telecamere di sicurezza di diversi negozi. E Gypsy, in un'intervista, ammetterà che a quel punto credeva che i due, se la sarebbero cavata, nessuno avrebbe scoperto cosa avevano fatto. Decisero quindi di spedire l'arma di delitto a casa di Godejon nel Wisconsin. Poi presero un autobus per andare lì, pure loro. Diversi testimoni che hanno visto la coppia mentre si dirigeva alla stazione Greyhound, ricordano che Gypsy lossava una parrucca bionda e camminava tranquillamente, senza la sede a rotelle. Tuttavia il 14 giugno, quel post su Facebook nell'account di Didi, che recitava La stronza è morta, come vi diceva dall'inizio, destò non pochi sospetti. Specialmente le persone che le conoscevano erano sbalordite perché Didi non diceva mai parolacce. Cominciarono quindi a commentare chiedendo cosa fosse successo, e in risposta ad uno dei commenti, comparì un altro commento da parte dell'account di Didi. E in questo commento c'erano scritte queste parole. Ho sgozzato quel grosso maiale e stuprato la sua dolce e innocente figlia. Le sue urla erano così forti, cazzo. LOL. Questo commento fece subito rabbrividire tutti quanti, e fece anche credere che quella a scrivere non fosse Didi. Prese dalla preoccupazione e dallo sconforto, alcune persone provano a telefonare la donna, ma non ricevono alcuna risposta. Così si recano a casa sua. Arrivate lì provano a bussare, ma non risponde nessuno, per questo decidono finalmente di chiamare il 911. La polizia arriva, ma bussando e non ricevendo risposta a loro volta, fanno domanda per l'emissione di un mandato di perquisizione. Poco dopo, quando viene emesso il mandato, gli agenti entrano in quella casa, e nel suo letto, in un bagno di sangue, trovano il corpo di Didi Blanchard. A questo punto tutti temono il peggio, si comincia a pensare ad un possibile assassino che dopo aver ucciso Didi ha rapito Gypsy. E la cosa che fa preoccupare ancora di più è che la sua sedia a rotelle era lì in casa, quindi sicuramente la ragazza non ce l'avrebbe fatta senza la sedia a rotelle, i farmaci e le attrezzature di supporto come le bombole d'ossigeno e il tubo di alimentazione. A questo punto, Alia Woodmancy, che è tra i vicini riuniti nel giardino dei Blanchard, dice alla polizia tutto quello che sa su Gypsy e sul suo fidanzato segreto. Poi, grazie al post su Facebook, gli investigatori riescono a risalire all'indirizzo IP da cui era stato pubblicato, e sorpresa, trovano la casa di Nicholas Godgeon. Quando poco dopo fanno eruzione in casa, trovano Nicholas e Gypsy nascosti nell'armadio. I due si arrendono subito e vengono presi in custodia con l'accusa di omicidio. La notizia che Gypsy al sicuro viene accolta con sollievo a Springfield, dove lei e Godgeon vengono invece trattenuti in custodia con una cauzione di un milione di dollari. Dopo l'incarcerazione, però, vennero fuori tutti gli abusi che Gypsy aveva dovuto subire durante gli anni, il che aiutò sicuramente a rafforzare la sua posizione di vittima. L'avvocato della ragazza analizzò la cartella clinica di Gypsy e riuscì ad ottenere un patteggiamento per omicidio di secondo grado. Nel luglio del 2017, quindi, accette il patteggiamento e viene condannata a dieci anni di reclusione. Godgeon, invece, dovette affrontare un'accusa ben più grave. Ricevette meno simpatia e comprensione dall'opinione pubblica, dato che lui, che aveva, in effetti, compiuto il crimine, non era neanche stato vittima degli abusi da parte di Gypsy. Nel gennaio del 2017, il suo processo viene rinviato quando i pubblici ministeri richiedono un secondo esame psichiatrico. I suoi avvocati, poi, sostengono che abbia un quoziente intellettivo di 82, confermando un lievissimo ritardo mentale. E nel dicembre del 2017, il giudice fissa il processo contro Godgeon per novembre 2018. Durante questa seconda fase del processo, gli avvocati di Godgeon affermano che Gypsy ha manipolato Nicholas e che lui è stato spinto a compiere questo gesto estremo, solo per amore. A sostenimento di questa tesi, vengono mostrati i messaggi che i due si erano scambiati durante gli anni precedenti. Tuttavia, non fu abbastanza. Gypsy testimoniò contro di lui, ammettendo però tutte le sue responsabilità nell'organizzazione dell'omicidio. E dopo quattro giorni, il caso venne inviato alla giuria. Come risultato, Godgeon viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado e nel febbraio del 2019 viene condannato all'ergastolo. Vicini di casa, amici e conoscenti sono rimasti scioccati nello scoprire che le malattie di Gypsy non erano mai esistite. Gypsy stava bene, non aveva nessuna delle patologie descritte dalla madre e per anni era stata obbligata a vivere praticamente come se fosse una malata terminale. Alia Woodmansey, soprattutto, è rimasta davvero sconvolta, si è subito messa a piangere quando ha scoperto tutto. Sua madre, poi, ha dichiarato che tutti hanno subito creduto alle parole di Didi senza mai chiedere la prova delle malattie di Gypsy. Perché avrebbero dovuto farlo? Chi mai avrebbe mentito su cose così delicate? La notte seguente al ritrovamento del corpo di Didi, oltre 60 persone hanno partecipato a una fiaccolata in memoria della donna, quando ancora non conoscevano la verità. Molti si sono sentiti stupidi per aver creduto alle sue dichiarazioni e si sono pentiti di averla aiutata con donazioni, regali e così via. È stata anche messa in discussione la partecipazione di Gypsy a tale bugie, perché lei sapeva di poter camminare, eppure davanti alla gente si è sempre comportata come se non potesse. Ovviamente però Didi era sempre lì con lei, che le diceva cosa fare e cosa no. Gypsy era pesantemente manipolata e costretta dalla madre a comportarsi in un certo modo. Inoltre era sul serio convinta di soffrire di tantissime patologie, anche perché i sintomi ce li aveva, ma erano provocati da sua madre. Per questo ha vissuto una vita incredibilmente triste, e sebbene sia a tutti gli effetti in parte responsabile per l'omicidio di sua madre, non si può negare che la prima vittima del caso sia lei. Durante la sua permanenza in carcere, nel 2018, disse queste parole durante un'intervista. Sento di essere più libera in prigione rispetto a quanto lo ero vivendo con mia madre, perché adesso ho la possibilità di vivere come una donna normale. Il 27 giugno 2022, ancora in carcere, si sposò con Ryan Scott Anderson, con cui è sposata tuttora. E il 29 settembre del 2023, il Missouri Department of Corrections ha confermato che Gypsy sarebbe uscita dal carcere il 28 dicembre del 2023 in libertà condizionale, dopo aver scontato l'85% della sua pena. Quindi, dopo aver scontato 8 anni per l'omicidio di sua madre, Gypsy Rose Blanchard ha 32 anni, è libera. Prima della scarcerazione, il web è totalmente impazzito, specialmente su TikTok e Instagram. Già da qualche settimana prima del 28 dicembre, sui social hanno cominciato a girare tantissimi video di persone che non vedevano l'ora che Gypsy venisse liberata. Qualcuno addirittura è andato ad aspettarla fuori dal carcere, per parlare con lei, esprimere la propria felicità per la sua liberazione e cose così. Ovviamente i giornalisti erano lì, in prima linea, ovvio. Nel giro di pochissime settimane, a partire da dicembre, Gypsy è diventata una vera e propria star. Tantissime persone hanno cominciato ad idolatrarla e fare video su di lei, dicendo quanto la amano, quanto abbia fatto bene a fare ciò che ha fatto, cose così. In generale, davvero, milioni di persone si ritengono felici che finalmente la donna possa vivere in totale libertà. Dopo la scarcerazione, Gypsy ha cominciato ad utilizzare i social per aggiornare tutti i suoi follower riguardo la sua nuova vita da donna libera insieme a suo marito, la sua sorellastra, suo padre Rod e la sua matrigna Cristi. Nelle settimane successive ha pubblicato un ebook, ha fatto un documentario che si chiama The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard, ha partecipato ad interviste, podcast, eventi. Per un periodo è davvero diventato un influencer di fama mondiale, ma dopo poche settimane questa ondata di popolarità è rallentata. E addirittura alcune persone hanno cominciato a pubblicare video in cui spiegano che secondo loro, Gypsy è una grande e pericolosa bugiarda e manipolatrice. Alcuni hanno addirittura fatto notare una certa somiglianza tra Didi e il nuovo marito di Gypsy, facendo intendere che è possibile che capiti di nuovo qualcosa di tragico. Ovviamente queste sono solo speculazioni e idee un po' estreme, ognuno si fa un'idea diversa delle persone coinvolte in queste storie. Oggi sono davvero molto curioso di sentire la vostra. Gypsy tuttavia ha spiegato che l'unico motivo per cui è sui social è quello di sensibilizzare riguardo la sindrome di Munchausen per procura. Perché sì, i sospetti del dottore che non aveva trovato segni di distrofia muscolare dalle analisi di Gypsy erano più che fondati. È estremamente probabile, se non sicuro a quasi al 100%, che Didi soffrisse della sindrome di Munchausen per procura. Aveva ogni singolo sintomo. Per anni ha mentito sulla situazione di salute di sua figlia solo per aiuti, soldi e regali. E faceva insorgere dei sintomi anche piuttosto pesanti nella persona di cui, in teoria, si sarebbe dovuta prendere cura. Gypsy è assolutamente convinta che sua madre ne soffrisse. E sebbene non ci sia una diagnosi, però vi ragioni, è praticamente certo che fosse così. Quindi alla fine di tutta questa storia, è venuto fuori che la persona che aveva bisogno di cure, non era mai stata Gypsy, ma sua madre Didi. I soggetti con la sindrome di Munchausen per procura, andrebbero fino in capo al mondo per sostenere di avere un figlio malato. La storia di Gypsy rimarrà nella storia perché è uno dei casi di abuso genitoriale più eclatante di sempre. Siamo tutti d'accordo sul fatto che Didi Blanchard avrebbe continuato questa farsa per tutto il resto della sua vita, se Gypsy non avesse avuto i primi sospetti. Ecco, conoscevate questa storia? Triste, strana e contorta? Vi aspettavate che le cose sarebbero andate in questo modo? E soprattutto, cosa pensate di Gypsy? Vittima a tutti gli effetti in tutto e per tutto, oppure abile bugiarda e manipolatrice come qualcuno ha suggerito? Aspetto le vostre considerazioni qui sotto. Intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che presto parleremo di una vicenda davvero misteriosa che ha sconvolto l'Islanda e di cui si parla ancora oggi. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!